E' lui il maniaco con giubbotto giallo che lo scorso mercoledì sera ha tentato di violentare la 61enne di Paese? Questa foto è stata scattata da un residente ieri sera alle 18.30 davanti al supermercato di Paese, cioè a due passi da dove è avvenuto il tentato stupro. L'identikit del presunto aggressore corrisponderebbe per altezza, età, colore della pelle e della giacca, ma non per il colore dei pantaloni indossati al momento dei fatti. Quelli di mercoledì sera erano infatti blu. Vero è che questa foto è stata scattata il giorno dopo la tentata violenza e ci si chiede se è davvero lui l'aggressore, è normale sia tornato nello stesso luogo sapendo che in tanti lo stanno cercando? Doveva incontrarsi con qualcuno? O peggio, stava aspettando qualcuno? Questa foto è stata spedita anche ai carabinieri che dopo aver sentito le testimonianze dei soccorritori della donna ora stanno anche visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Inquirenti che chiedono a chiunque avesse visto una persona corrispondente alla descrizione del presunto aggressore anche poche ore prima del tentato stupro di andare a portare la loro testimonianza in caserma. Anche ogni piccolo particolare potrebbe risultare infatti utile per la sua cattura. Intanto il prefetto vuole rassicurare l'aggredita. Abbiamo delle buone possibilità perché comunque si stanno esaminando alcuni fotogrammi di alcune telecamere e quindi speriamo che al più presto si possa individuare il colpevole. Prefetto che in qualità di donna ci tiene a manifestare la sua vicinanza alla 61enne a cui si rivolge così. Donne che nella loro quotidianità in qualche modo vedono assolutamente messe in pericolo la loro incolumità fisica assolutamente sì, grande solidarietà e anche mi verrebbe da dire oltre che un augurio è anche un messaggio di incoraggiamento di considerare che tutti faremo la nostra parte perché la signora possa continuare a fare la vita che faceva prima. E in paese tra la gente si è scatenata una vera e propria caccia all'uomo. A quella gente là bisognerebbe veramente dare una grande lezione in maniera che questo popolo italiano riesce a vivere un po' più in pace senza tutti questi problemi che ci sono oggi. Una lezione tipo? Tipo, sarebbe un po' grave dire la castrazione chimica perché sono giovani per carità, ma comunque... Dovrebbe esserci anche la giusta pena per chi commette questi reati, insomma, speriamo che lo trovino. Non doveva succedere questa cosa e a quella persona non deve vivere con la comunità. È grave alle 8 di sera, ma che non conto se fosse una zona malandata oppure isolata, ma qua alle 8 di sera in piazza.